Un bilancio positivo iniziale sicuramente dovrà consolidarsi, ma un'attività sicuramente incisiva sul territorio, dedicata in modo particolare a garantire maggior sicurezza e legalità, quindi conseguentemente una maggiore viabilità delle nostre piazze e delle nostre vie. Un grazie sicuramente agli agenti della Polizia Locale di Bergamo e me ufficiali che in questa attività di riordino e di riprogettazione dei nostri servizi hanno manifestato molta professionalità e grande impegno.